Andrea Pestrin che rimane al comando con 54.62 alla partenza settima serie. Sesta serie alla 1, Lorenzo Perì alla 2, Luca Dallavetta alla 3, Alberto Camillotto alla 4, Francesco Anzanello alla 5, Marco Zandegno alla 6, Stefan Henning alla 7, Davide Schiattino alla 8, Michele Orru. Leonardo Fabretti 55.44, Simone Porcare 55.79.